Serenata del nostro musicista bresciano Giancarlo Pacchinetti, musicista di fama internazionale che è morto nel 2017, è stato anche il mio maestro e risiedeva piano piano e nelle sue musiche a bibbelle più serie riesce a trasparire sempre una sottile gremia. Buon ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.